Buongiorno a tutti e bentrovati, voglio presentarvi gli ospiti di quest'oggi, do il benvenuto al professor Franco Balzaretti, segretario nazionale dell'AMCI, l'Associazione Medici Cattolici Italiani e componente della Commissione Internazionale Miracoli di Lourdes. Buongiorno, benvenuto, e al dottor Giuseppe Grasso, segretario dell'AMCI. Buongiorno e bentrovato. Allora, nella cornice di un santuario religioso straordinario come quello di Lourdes, professor Balzaretti, alcuni pellegrini affermano di aver ricevuto un miracolo, di aver beneficiato di una guarigione e desiderano darne appunto testimonianza. Si rivolgono allora ad un ufficio che è a sede a Lourdes, che è l'ufficio delle constatazioni mediche nel santuario stesso e ne rilasciano una dichiarazione. Poi questi fatti vengono trasmessi al Comitato Medico Internazionale di Lourdes, di cui lei appunto è componente. Qual è il ruolo principale allora di quest'organo? Ma innanzitutto vorrei precisare che non tutte le dichiarazioni vengono poi portate al nostro Comitato. Questo perché a fronte di 7.000 dichiarazioni solo una minima parte viene poi giudicata dal Comitato, in quanto ci sono dei criteri ben precisi, molto rigorosi, criteri che sono dei criteri dati dalla Chiesa, in particolar modo sono i criteri ancora del Cardinal Lambertini, il famoso Cardinal Lambertini che molti conosceranno anche per il famoso film, ma che oltre a essere quel simpatico cardinale che noi conosciamo dai film, il Cardinal Lambertini che sarebbe diventato poi addirittura Papa Benedetto XIV, era anche uno dei più importanti costituzionalisti della Chiesa, per cui aveva determinato questi 7 criteri, che sono 7 criteri molto rigorosi, per cui diciamo c'è un primo filtro a tutte le dichiarazioni che viene eseguito dal responsabile del Bureau Medical dell'Ufficio delle Costatazioni, che attualmente è un italiano, per la prima volta c'è un italiano che è il professor De Franciscis, che tra l'altro ha anche una storia diciamo molto importante in seno alla nostra associazione dei medici cattolici, in quanto il padre è stato presidente nazionale e lui stesso è stato presidente di sezione, ma anche dirigente a livello nazionale, per cui il direttore del Bureau Medical fa un primo filtro di queste dichiarazioni di guarigione, innanzitutto si constata se effettivamente c'è stato un passaggio da uno stato di malattia ad uno stato di guarigione, se anche queste malattie sono delle malattie gravi che rientrano in quelle che poi potrebbero essere giudicate una guarigione inspiegabile. Dopodiché queste guarigioni vengono giudicate dalla nostra commissione, è una commissione internazionale, in quanto inizialmente era stato fatto un comitato nazionale solo francese, però a distanza, questo nel 1947, a distanza di sette anni, quindi nel 1954, questo comitato è diventato internazionale. E questo per due motivi essenziali, perché innanzitutto i pellegrini che vanno all'URD arrivano da tutto il mondo e quindi anche per dare autorevolezza a questo comitato si è pensato a un comitato internazionale, ma anche perché quando questo comitato si trova a giudicare delle cartelle cliniche provenienti da diversi paesi, non solo per problemi di lingue, ma anche per cultura, è difficile per un medico francese esaminare, giudicare una cartella clinica italiana e viceversa, quindi è importante che ci sia questa, non solo una multidisciplinarietà, in quanto i componenti del comitato appartengono a diverse discipline e vengono scelti anche per poter coprire il maggior numero delle varie specializzazioni e discipline, ma serve anche che ci siano, è importante che ci siano medici provenienti da tutto il mondo, in effetti nel nostro comitato ci sono medici che provengono da tutto il mondo, di questi siamo tre italiani e quindi io mi onoro di far parte di questi tre italiani che fanno parte della commissione. Ecco, di questa bellissima realtà. E il suo compito specifico all'interno della commissione qual è? Il mio compito è, diciamo, non è che ci siano dei compiti specifici, ognuno di noi, diciamo io essendo, avendo una specializzazione in chirurgia, una specializzazione in chirurgia d'urgenza, una specializzazione in chirurgia vascolare, mi occupo prevalentemente di queste patologie, ma mi occupo soprattutto delle dichiarazioni, perché poi tutti i componenti hanno anche il compito, poi questi casi, questi dossier vengono esaminati poi da un componente che deve fare la relazione a tutti gli altri. Quindi quando ci sono delle dichiarazioni inerenti a casi italiani, si preferisce, diciamo, fare riferimento ai componenti della commissione della stessa nazione, per soprattutto una serie di motivi. Ecco, professor Balzaretti, come vive la sua vocazione medica, quindi vocazione alla scienza e alla sua fede cattolica? Diciamo che la vivo come un conspirito di servizio, un servizio che facciamo alla Chiesa, ma è un servizio che facciamo soprattutto ai nostri malati. Quindi il fatto della fede non è un ingabbiamento, non è una limitazione, ma diciamo che è un arricchimento per il medico. Quindi il fatto della fede ci arricchisce e ci consente anche di approcciarci e di accostarci soprattutto alla sofferenza, soprattutto ai malati più gravi con uno spirito, con un sostegno e con uno spirito proprio, diciamo, più aperto alla condivisione di quella che è l'aspetto proprio della sofferenza sia dell'ammalato sia anche dei familiari. Quindi questo mi ha aiutato molto perché soprattutto quando ci si trova di fronte a casi molto gravi, a casi in cui non ci sono speranze e noi abbiamo il dovere di dare comunque una speranza all'ammalato e il fatto della fede ci aiuta molto. Anche l'associazione, il fatto dell'associazione che ci mette a contatto con degli altri medici, con degli altri colleghi, con gli stessi valori ci aiuta, diciamo, a crescere in questa dimensione. Ecco, quindi lo spirito di servizio, dottor Grasso, è proprio alla base dell'Associazione dei medici cattolici italiani. Sì, perché noi rifugiamo dall'autoreferenzialità presente in molte categorie anche nella nostra, ma come diceva l'amico e il collega, il professor Franco, ci mettiamo a disposizione senza pregiudizi raziali, religiosi, ma offrendo al paziente oltre alle nostre qualità scientifiche, anche i valori che portiamo, che illuminano le nostre capacità scientifiche. Come del resto è sempre detto anche da padre Pio, quando ho fondato la casa sull'Ivo della Sofferenza, se non c'è l'amore le terapie portate dai medici non servono a nulla. Volevo dire che ho organizzato questo convegno e ringrazio l'amico Franco Bazzaretti per aver accettato l'invito nostro della Dioce di Manfredonia sull'urdo fra scienza e fede, perché il professore ha fatto questo convegno, proprio perché da laici adulti, il vescovo nella lettera pastorale ci richiama questo, dobbiamo affrontare la vita con ancorati i nostri valori, ma da adulti. Quindi noi dobbiamo rifugire dal miracolismo e dalla superstizione, ma dobbiamo essere aderenti alla parola di Dio e vivere la nostra vita illuminata da ciò. Credo che il professore, come è stato visto nel suo intervento, abbia proprio dimostrato questo. L'Urd è un luogo straordinario e appunto tanti, come dicevamo anche all'inizio, affermano di essere stati beneficiati, di essere stati guariti, quindi di aver ricevuto un miracolo a Lourdes. Sono tanti i miracoli avvenuti e che avete certificato? Allora sono solo una minima parte, perché a fronte di oltre 7000 dichiarazioni ci sono 67 solo, 67 diciamo miracoli verificati e certificati dalla Chiesa, perché la Commissione vorrei fare un'altra precisazione, la Commissione non dichiara il miracolo, la Commissione ha lo scopo di stabilire che una guarigione è inspiegabile, scientificamente spiegabile, quindi il compito della Commissione a volte è anche un compito un po' ingrato, ingrato in questo senso che noi dobbiamo sviscerare questi dossier, queste storie, perché al di là della guarigione ci sono delle vere e proprie storie umane che certe volte non ci possono lasciare indifferenti, eppure il nostro compito è quello di andare a sviscerare, di andare a escludere ogni minima possibilità di spiegazione naturale o scientifica e quindi è un compito diciamo proprio che viene svolto proprio in termini tecnici, in termini scientifici, con lo stesso sistema diciamo che viene adottato dalle società scientifiche e quindi certe volte questo ci mette un po' in difficoltà perché nel nostro animo si vorrebbe magari avere un atteggiamento diverso, eppure è importante, io all'inizio facevo fatica ad entrare in questa ottica perché sembrava quasi di eccedere un eccesso di positivismo, di scientificità nel nostro compito, eppure ho capito poi che la chiesa ci chiedeva questo, quindi il nostro compito di operare nella vigna è quello proprio di andare a escludere ogni possibile, per mettere al riparo poi la chiesa e il santuario di Lourdes da speculazioni, da contestazioni, è vero che sono pochi questi 67 miracoli, potrebbero essere molti di più, però quando non c'erano tutti gli elementi si è preferito piuttosto archiviare il dossier, piuttosto che incorrere poi in contestazioni che avrebbero anche determinato un'immagine negativa non solo per la chiesa ma proprio anche per la nostra stessa fede. Magari qualcuno, qualche pellegrino parla di miracolo quando magari si tratta invece di una condizione di serenità che ritrova Lourdes? Ma diciamo questo, innanzitutto al di là di questi 67 miracoli, adesso con la recente modifica proprio del nostro gruppo di lavoro, del nostro metodo di lavoro, si è pensato di fare anche una categoria delle testimonianze perché ci sono delle storie bellissime, delle storie proprio umane da un punto di vista umano che ci commuovono a volte e che vengono magari archiviate, questo non è giusto perché sono delle testimonianze importanti per quanto avviene a Lourdes. E poi io vorrei ricordare che il nostro compito è ingrato anche perché noi siamo costretti così ad analizzare in modo scientifico delle guarigioni come dei tecnici della medicina più che come dei medici. Quando a Lourdes la cosa importante, io di fatto l'ho detto anche nella relazione, io avrei parlato più volentieri magari di tanti altri aspetti che si vivono a Lourdes, però era importante anche spiegare la scientificità, il rigore che viene utilizzato dalla nostra commissione. Dicevo, la cosa più importante che avviene a Lourdes sono i tanti miracoli delle tante conversioni, di tante persone che partivano dal presupposto, parlo di Emile Zola che è stato il caso più eclatante, ma di tanti altri che partivano dal presupposto di andare a Lourdes per smascherare degli imbrogli, per contestare la santità e la spiritualità del santuario, per contestare le stesse religioni eppure molti di questi medici poi sono tornati convertiti. Tra questi io vorrei citare il caso del professor Alexis Carell che ho citato anche nella mia relazione, che sarebbe diventato premio Nobel per la medicina e che era partito proprio con questo scopo ed è tornato convertito al cattolicesimo. Davvero molto interessante. Lei mi ha preceduto nella domanda che volevo porre a proposito di questo incontro, a quale accennava anche il dottor Grassi, un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Manfredonia, voluto fortemente dall'Associazione Medici Cattolici, dalla nostra Arci Diocesi, dal titolo Lourdes tra scienza e fede. Ci ha dato già qualche anticipazione sui temi che ha trattato, quindi il filo conduttore è comunque la grande responsabilità che avete come medici. Sì, però diciamo che il filo conduttore io ho voluto partire anche da quella che è la storia di Lourdes, perché la storia di Lourdes ha diversità di altri importanti santuari come può essere Fatima, come possono essere Guadalupe e altri importantissimi santuari. A Lourdes la storia di Lourdes è sempre stata legata alla medicina e questa affermazione è un'affermazione che è valida adesso come lo era 150 anni fa ai tempi delle prime apparizioni. E quindi il ruolo del medico a Lourdes è sempre stato fondamentale. Io ho voluto proprio partire dalla storia per far capire le motivazioni per cui Lourdes è particolarmente legato ai medici, particolarmente legato al mondo della sofferenza, degli ammalati e soprattutto ho voluto far capire il motivo per cui questo iter è così lungo e così complicato perché non dimentichiamolo che noi la constatazione e l'elaborazione di questi dossier e anche l'analisi di questi dossier può andare avanti anche per anni. Ma questo è importante perché noi dobbiamo verificare che queste guarigioni siano turature nel tempo, che non ci siano recidive perché uno dei criteri del Cardinal Lambertini è proprio questo. Io ho cercato di far capire questo, non è stato un compito facile perché è un iter molto lungo, molto complicato e ho cercato con l'aiuto di alcune diapositive, di alcune slide così di far capire bene il nostro lavoro e soprattutto di far capire bene quali sono i criteri e la difficoltà certe volte anche proprio di esaminare e di esprimere un giudizio per questi dossier e per queste guarigioni. Io concluderei con una domanda rivolta ad entrambi. Qual è la più grande responsabilità di un medico cattolico oggi? Dottor Grasso. Sì, dare una testimonianza il più possibile credibile e evitare appunto la controtestimonianza perché il mondo ha bisogno più che di maestri e testimoni. Se noi, come dice il nostro vesco, siamo all'interno della chiesa dei farisei, appena usciamo da estra diventiamo dei pubblicani, certamente il mondo laicizzato e laicista non solo ci deride ma ci addita come esempio di incoerenza, di negatività. Questo non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo cercare di vivere con i nostri limiti ma con la coerenza del Vangelo. Anche controcorrente se necessario. Soprattutto controcorrente. Professor Balzaretti. Io direi sono due i compiti fondamentali per il medico cattolico. Il primo compito, come diceva giustamente anche dottor Grasso, è quello della testimonianza e dell'evangelizzazione in un contesto, in un contesto di lavoro in cui dichiararsi cattolici è sempre più difficile. Io l'ho toccato con mano e molti di noi hanno toccato con mano che portare avanti certi principi, certe cose, crea delle difficoltà. Se ne era già reso conto il professor Karel che sarebbe diventato premio Nobel per cui lui questa sua conversione l'ha sempre tenuta molto segreta per la verità. D'altro canto non possiamo noi così ritenerci soddisfatti solo dal fatto di fare una testimonianza e di fare delle dichiarazioni e di portare un distintivo, anche se questo certe volte ci mette in difficoltà o ci può dare delle difficoltà, ma dobbiamo anche dare una testimonianza concreta al nostro essere cattolici nella nostra vita di tutti i giorni, nel nostro modo di comportarci, di accostarci al sofferente. Per cui la nostra etichetta di cattolico non deve essere solo visibile dal distintivo, dalle dichiarazioni e da queste cose, ma deve essere proprio visibile da quello che è il nostro comportamento, da quello che è il nostro modo di essere medici, di fare i medici e di vivere questa nostra missione di medici. Credo che qui a San Giovanni Rotondo, questo bellissimo ospedale è casa del sollievo della sofferenza fortemente voluto da San Padre Pio, da Pietrelcina e ci invita proprio a riflettere sulla grandezza, sulla nobiltà di questa nostra professione e certe volte magari nella vita di tutti i giorni presi dalle incombenze anche burocratiche, abbiamo sempre più burocrazia e certe volte si rischia di perdere questa dimensione, che è la dimensione fondamentale della nostra professione. Non solo dei medici cattolici dovrebbe essere, ma il medico cattolico ancora più, perché è anche illuminato e anche sostenuto dalla forza della fede. Grazie per la sua bella testimonianza e per le parole che ci ha rivolto quest'oggi, sia come pazienti, come persone, ma parole rivolte ai tanti colleghi, ai tanti medici, cattolici e non. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi quest'oggi, dottor Giuseppe Grasso, grazie davvero per la disponibilità e il professor Franco Balzaretti per essere stati nostri ospiti quest'oggi. Grazie di cuore, noi ci fermiamo qualche istante, linea alla regia per proseguire con la programmazione odierna. Grazie a tutti.